Maurizio Baiata Maurizio tesla arriva con un titolo di un libro bellissimo e c'è anche un perché lui è qua oggi si è un incontro per me altamente emotivo ho già trascorso una mattinata in cui brividi lungo la schiena e a volte anche l'idea che potessi lasciar scorrere le lacrime è perché chi ha vissuto l'esperienza di premorte si ritrova con i suoi simili finalmente con le persone che possono capire questo tipo di vissuto e soprattutto sentirsi non soli è un po' lo stesso discorso fatto da chi ha esperienze di contatto con gli esseri che ancora chiamiamo ostinatamente alieni e che hanno caratterizzato la mia vita sia quella di premorte nel 1971 a seguito di un incidente stradale e quella del 99 in cui mi sono ritrovato con accanto degli esseri non terrestri non umani ma comunque che hanno determinato la ragione per la quale sto andando avanti in questa mia missione in terra grazie